mattia solivera amici stracandidi buongiorno bentrovati a bebus terzino sinistro erano anni era dall'infortunio di gulam con il manchester city che eravamo alla ricerca di un terzino sinistro e finalmente sì ma incrociamo le dita siamo riusciti nell'impresa incredibile di riuscire a colmare quel buco che è da lì che lì da cinque passa anni mamma mamma mia che dio benedica preservi e protegga mattias olivera oggi visite mediche subito dopo ci attendiamo il tweet presidenziale perché senza tweet di ufficiale non c'è nulla in questa società ma la notizia è che stiamo iniziando a giocare d'anticipo abbiamo giocato d'anticipo perché il buon kvarach kelia che sta ancora giocando il suo campionato con la dinamo batumi è già un giocatore azzurro manca il tweet manca il tweet però è vero manca il tweet ma de laurentis lo ha praticamente annunciato qualche giorno fa qualche settimana fa in una delle sue tante interviste quindi a kvarach kelia si aggiunge anche mattia solivera ci giungono anche delle novità particolari pare che se non ricordo male alfredo alfredo pedullà su sport italia ha detto che l'affare è chiuso già dal primo di aprile mancavano solo alcuni piccoli dettagli il getafe ha voluto guardarsi in giro sondando un po il terreno e aveva ricevuto dei feedback dei feedback positivi dal benfica e dall arsenal però il giocatore aveva un accordo con il napoli lo ha voluto rispettare e quindi il getafe ha dovuto accettare quelle che erano le condizioni su cui comunque si era già trovato un accordo e di conseguenza olivera sosterrà nella giornata di oggi a villa stewart le visite mediche e poi è pronto per firmare una volta superato l'iter medico diciamo così ma che calciatore è mattia solivera io l'ho visto giocare in più occasioni non tante da poter dire questo è un fenomeno che cosa ho visto un giocatore strutturato fisicamente un metro 85 circa di altezza bel fisico faccia cattiva faccia da uruguaggio cattivo di quelli che è disposto a fare la guerra sportiva si intenda in campo e quando veste la tua maglia è uno di quei calciatori che da noi manca noi al di là della discreta stagione che mario lui può aver fatto non ha fatto una stagione eccellente ha fatto una stagione discreta accettabile altre stagioni sono state decisamente peggiori rispetto a quella che ha fatto mario lui però fisicamente non è strutturato questo è un giocatore che a gamba a fisico a cattiveria garra dovrà migliorare l'aspetto difensivo perché dal punto di vista difensivo qualche miglioramento lo deve assolutamente fare però uno di quei calciatori che quando spinge spinge va il cross è uno che ha un buon piede può giocare anche da esterno in un centrocampo a quattro ma per quello che è l'attuale diciamo metodo tattico azzurro quel ruolo non verrà ricoperto ma è un'alternativa perché se mai tu potessi decidere volessi decidere di metterti a tre con i quattro a centrocampo lui può farlo può fare in tutta fascia chiaro torniamo sempre all'inizio deve migliorare in fase difensiva e quindi il ritiro prima di mano e poi a castel di sangue dovranno essere utili per impostarlo mentalmente anche su quello che è il campionato italiano e quindi è necessario che lui migliori la sua fase difensiva però dal punto di vista offensivo è una freccia in più è una freccia in più che va anche in direzione di quello che è un cambio strutturale nuovo per questa squadra bando ai piccoletti o comunque piccoletti limitati e giocatori di fisico di struttura di forza di aggressività di cattiveria spesso questo piccolo dettaglio nelle nostre partite ha fatto la differenza in negativo perché è inutile che ci pigliamo in giro i piccoletti saranno tecnici veloci rapidi eccetera eccetera ma quando trovi squadre chiuse fai fatica deve avere qualcuno strutturato fisico forte temprato cattivo agonisticamente e questo giocatore è quello che ci mancava quindi noi lo accogliamo a braccia apertissime un po perché ci togliamo questo peso del terzino sinistro che andava avanti oggettivamente da troppo tempo troppo 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 indiscutibile troppo e forse ci è costato qualcosa non so se a livello di titoli ma a livello di partite sicuramente perché avere un mario lui e un gulam ha nemmeno mezzo servizio un quarto di servizio qualche problema ce l'ha creato nel corso degli anni quindi benvenuto mattia solivela benvenuto anche a kvarach kelia gliel'avevamo già dato il benvenuto ma ormai a campionato chiuso e a mercato non ancora iniziato ma comunque le trattative si cominciano a sviluppare a sviluppare accogliamo il secondo acquisto per quanto riguarda la stagione 22 23 in attesa di capire il futuro dei big fabian zeninsky osimen culibali eccetera 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 sarà un'estate lunga ve lo dissi e ve lo confermo quindi restate sintonizzati non dimenticate che il calcio fa bene alle ossa anche quando si tratta di calcio mercato vi ricordo amici stracandidi l'appuntamento di domani domani alle 8 del mattino spam puntuali reaction dei pronostici stracandidi per quanto riguarda la serie a quindi quello che io pronosticai all'inizio della stagione lo andremo a commentare insieme farò la mia reaction dove avrò floppato dove invece ci avrò visto giusto vi ricordo anche ci sono le pagelle del del napoli che sono uscite nella giornata di domenica sera andate a rivederne se avete voglia e poi per quanto riguarda i prossimi appuntamenti venerdì il video pagelle alla stagione delle squadre di serie a aspetto a metterlo perché c'è la finale di conference league della roma e quella quella partita può modificare il voto della roma quindi attendiamo il risultato della roma per lanciare anche il pagellone delle squadre alla stagione delle squadre di serie a quindi non solo per quello che hanno fatto in campionato ma anche per come si sono comportate nelle varie coppe nazionali e internazionali amici stracandidi per questo video è tutto buona giornata a tutti quanti voi non vi dimenticate anche di iscrivervi al canale mi raccomando è importante e un abbraccio a tutti quanti voi dal vostro amico stracandido ciao